buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola oggi ragazzi voglio rispondere ad una signora che mi chiede dottore ma è possibile che tutto provenga dalla testa dalla mente dai pensieri dalle parole bene ragazzi riflettete un po su questo che sto per dirvi su questa cosa tu quando prendi un bicchiere quando ti gratti quando fai un passo con i piedi con le gambe quando ti tocchi i capelli tu pensi che chi comanda questi gesti questi comportamenti questo alzare il bicchiere questo camminare chi lo comanda da solo è casualità o la tua mente il tuo subcosciente anche se non ci rifletti anche se non ci pensi questa è la domanda che devi porti per cui chi dice o snobba la mente le parole i pensieri le emozioni non ha capito nulla della vita della sua vita tante persone ad esempio vogliono dimagrire poi dimagriscono grazie magari ad una dieta ma non riflettono che se la loro mente mente intesa come subconscio come pilota automatico l'88 per cento della mente della tua mente la mia mente non avrebbero seguito quella dieta infatti su cento persone solo una dimagrisce perché il cuore alias subcosciente le sue ragioni che la ragione non conosce perché tante volte noi ci ripetiamo voglio dimagrire voglio perdere questa abitudine non voglio fumare non voglio bere però una forza più forte di noi della nostra volontà della nostra critica della nostra coscienza ce lo impedisce qual è questa forza misteriosa questa forza invisibile è la tua mente sempre il tuo subcosciente che gestisce corpo mente spirito che gestisce i gesti i comportamenti le parole gli atteggiamenti le emozioni tutto di più tutto di molta gente se ne è uscita anche con un solo audio mp3 dcs altri invece hanno fatto anche delle sessioni online di ipnosi dcs altri ancora hanno avuto degli audio mp3 dcs personalizzati questa è la mia esperienza però ti posso garantire che gli audio dcs di ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola sono qualcosa di spettacolare unico al mondo con delle istruzioni molto facile la prova di un idiota che se seguite alla lettera vi daranno veramente una trasformazione incredibile per il tuo bene il bene dei tuoi cari addirittura con il metodo dicesse può aiutare anche chi non vuole il tuo aiuto chi non può essere aiutato mi riferisco a bambini adulti anziani in certe condizioni in cui non possono neanche sedersi ad una seduta di ipnosi conformista commerciale perché non seguono non partecipano ok non credere nessuna parola del sottoscritto fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni soprattutto per email visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com visita per favore le mie fanpage su facebook ipnosi ipnosi dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicessere dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel qui da quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicessere dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao